La cosa importante è che ringrazio il Presidente per questa grande opportunità. Come ha detto il Presidente, è un'opportunità che va un pochino a lunga gittata, anche perché nel settore giovanile devi avere la pazienza giusta e cercare di programmare bene il lavoro. Entro in punta di piedi in questa famiglia e è quello che mi ha spinto la convinzione del Presidente di portarmi qua. Quindi credo che ci sono tutti i presupposti, col tempo e con l'umiltà giusta, di fare un lavoro programmatico, senza fretta. Con il Presidente abbiamo stabilito un programma che va verso questa direzione e quindi speriamo di avere il tempo materiale per poter realizzare questo. Ci vuole tempo, pazienza e pian pianino cercare non di fare bene, cercare di sbagliare il meno possibile. Io sono sempre di questa idea. L'obiettivo principale, ne abbiamo già parlato con il Presidente, è cercare un attimino che il 60% del prodotto giovanile, spero che venga formato in provincia. Io spero di rilasciare i rapporti con tutte le scuole calcio della zona e cercare con loro di avere una massima collaborazione.